RICOMINCIA 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 Nerazzurro, pausa salutare per lui, pressing alto efficace, involata verso la porta con dribbling largo, destro secco sotto la traversa e al minuto 9 è 0 a 2. Lopresti per Arcifa, corridoio in mezzo all'area per il tocco a correzione di Federico Cristaldi che sigla lo 0 a 3 quando cade il minuto 11. Non saranno i soli gol di giornata per chi è andato a segno sinora, intanto rivediamo la manovra che chiude anzitempo i conti a nemmeno un quarto d'ora dall'inizio. Ne fa uno anche Simone Lopresti al 30 esatto, assistenza stavolta di Lizio e Piatto che vale lo 0 a 4, quinto centro personale per Lopresti in stagione. Altro giro, altro assistman stavolta dall'auto di destra, Timoti Garcia riesce a far passare questo traversone lungo, respinta corte avversarie per Cristaldi. C'è la seconda finalizzazione personale di giornata, quella dello 0 a 5 a 2 minuti dall'intervallo. Sul conto, altre opportunità nell'arco di tutto il primo tempo, vedi Garcia sottoporta fermato da Di Mauro, ma anche Marino che serve di testa Cristaldi da ottima posizione anticipato in uscita dal portiere. Sempre Marino ci prova con una girata all'incrocio che si alza di poco, Mazzeo tra i pali meridiana non pervenuto perché il compito di custodire la porta inviolata è svolto in maniera impeccabile da Nicotra e Spinnicchia come vediamo. Ci si attende adesso una ripresa dai ritmi più bassi, spazio ad Aiello e Lorenzo Privitere in attacco, quest'ultimo dunque all'esordio. Entra anche Lombardo che si posiziona in mezzo al campo, tre cambi da parte di mister Matteo Platania. A inizio ripresa Lizio su pulizione non c'entra i pali per questione di centimetri, poi Sapienza tenta la girata vincente da calcio d'angolo senza fortuna. Clamorosa occasione per Arcife che tenta il diagonale ma trova solo l'esterno della rete. Si riscatterà tra non molto segnando uno dei gol di giornata quasi in chiusura di partita. A realizzare il sesto centro intanto al minuto 17 è Cristaldi ma grande merito va al duo Lizio Privitera per la costruzione in tandem. Per Cristaldi invece si tratta del gol numero 8 in stagione. Tutta in velocità, la manovra del minuto 21, Aiello, Cristaldi e Lizio dal limite all'interno destro. Vale il gol del 7-0, Lizio sale così a quota 9 e diviene il secondo miglior marcatore nerazzurro in stagione. Alle spalle di Crisiglione che è pronto a giocarsi, 20 minuti di partita e perché no mettere firma classica sotto porta. Non prima però di vedere all'opera, 10 dal termine. Arcife che prima viene fermato in corner dopo cross dalla mancina di Privitera. E poi si procura un penalty che trasforma per il gol dell'8-0 sul tabellino. Per Arcife è il terzo centro in campionato. Dicevamo, di salvo Crisiglione mancava solo lui all'appello ed eccolo qui. Cristaldi per Privitera respinge di Mauro proprio sui piedi del 99 Catanese che va a siglare il 18esimo gol in questa annata, la cui seconda parte è solamente in fase di avvio. La Meridiana passa da Cibbona Corsi a Vele Spiegate. 9-0 risponde in classifica alle dirette concorrenti Catane e Academy nella lotta per il vertice. E archivia la pratica pro calcio, pensando già alla Ragazzini. Domenica al Seminara. Sarà la prima di due gare interne consecutive. Certo, oggi dovevamo vincere per rimanere lì vicino alla testa della classifica e l'abbiamo fatto. Senti Lorenzo, oggi ti è stato affidato un compito abbastanza delicato dopo aver agito da esterno basso, oggi insomma il ruolo di centrale di difesa che è stato quello di Capitan Navarra che salutiamo che è infortunato. Sicuramente una buona dose di responsabilità da parte del neotecnico Matteo Palatenia. Certo, oggi eravamo in emergenza, però il mister già ci ha fatto provare la difesa a tre e siamo riusciti a prendere zero gol ed è una soddisfazione. Le partite abbiamo sempre sbloccare all'inizio, il mister ci ha sempre di attaccare e prestare alti, oggi l'abbiamo fatto e sicuramente lo faremo anche nelle altre partite. Allora, prossimo appuntamento con la Ragazzini per continuare a vincere, adesso ci sono due partite in casa consecutiva. Certo, saremo ancora in emergenza, però sicuramente ci metteremo tutta per vincere queste due partite.